Ok, siamo anche su YouTube, quindi se volete salutate. Allora, partiamo col free ticket. Sempre metodo geppino anche col free ticket, vediamo cosa succede. Ovviamente niente. Ok. Non ha neanche le free pool, Irvino. Cioè, guardate quanto è cestino, non ha neanche le free pool. Cioè, è talmente cestino che non ha le free pool, incredibile. Però abbiamo quattro ticket. Però abbiamo quattro ticket. Cosa succede con quattro ticket? Cosa... Cosa succede con quattro ticket? Mi schifo la mia... Che fu? Niente, stiamo parlando. Stiamo parlando, ci stiamo sfocando un po'. Ci stiamo sfocando. Allora. Orba azzurra. Che ovviamente non è nulla. Oh! 15 e 35 di Irvino. Vediamo se facciamo tutto il kit... Vediamo se facciamo tutto il kit completo. Orba azzurra. No, ma non ero alterato. Stavo semplicemente esponendo. Non... Non mi altero per queste cose. Oggi sul PlayStation Showcase ci sono tante cose carine. Ora... Ora ne parliamo. Ora un pochettino ne discutiamo. Niente, una bella 15 di wall. Cioè, guardate che ticket brutti da Irvino Cestino. Ma proprio niente. Attenzione però. Orbo dorata. Però non c'è stato loading. Quindi, mi sa che... Eh... Baltier, Baltier, Baltier. Che tra l'altro già ce l'ho Baltier. Quindi... Eh... Volevi! Vole! Guarda che faccia! Guarda che faccia! Non se l'aspettava! Oh, me l'aspettavo in realtà. Me l'aspettavo perché... Me l'aspettavo però. Me l'aspettavo però. Niente, niente, niente! 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 Proprio Cestino e Irvino. Buttiamo questi 30 ticket per la scienza, dai! Li buttiamo, sti 30 ticket per la scienza. Oh, merda! Oh, merda! Qui... Qui urge il sondaggino. Qui urge il sondaggino. Vediamo il sondaggino cosa succede. Eh, ma già ce l'ho Baltier, quindi non mi serve a niente. Se esce ovviamente l'ABT di Irvine, vale... Niente. Sempre... Ecco, bravo Laguna, tu stai zitto. Niente, gestisci il sondaggio. Ha vinto Baltier. Ha vinto Baltier. Ha vinto ancora una volta Baltier. Eh, vabbè, orbo dorata, sondaggio non lo faccio, perché... Non significa nulla. Un completo disastro. Oh! Niente, il gioco mi sta dicendo che... Il vino... Niente, il vino... Quando non vuole uscire, non vuole uscire. C'è poco da fare, ragazzi. È così. Quando un personaggio non vuole uscire... Niente, basta. Lo ribadiamo e lo gridiamo ad alta voce... Il vino cestino. Allora... Dopo un'attenta analisi, visto che ci sono i ticket che possiamo recuperare, altri 50 ticket... Li tiriamo... Altri 50... No, oddio... Altri 50 li possiamo tirare... Per il vino cestino. Vediamo che cosa succede. Skip! Skip! Niente. Ho tentato il metodo dello skip. Skip! Skip! Niente. Non ci sono neanche connecting, quindi skip! Skip! Ecco, la LED di wall. Va bene, dai, facciamone 100. Avanti. Giusto per... Giusto per amore del content. Skip! Sì. Tanto ne recuperiamo 2,50, quindi vabbè. Sono sempre sopra di... Sono sempre sopra. No, non le butto le 5k. Non gliele spendo queste 5k. Se mi esce la fr... Allora sì. Se mi esce la fr... Ci tento. Con 5k di vedere se mi esce... Se mi esce la BT con 5k. Ma se non esce la... La fr... Rip. Skip! Niente. Le orbe azzurre, alla fine... Che è che mi manda messaggi? Ah, ok. No, niente. Il gruppo... Niente. Un gruppo mio. Sono geno... No, non lo posso fare. Che poi... Zammai. Mi prendo le distanze da... Da questa similitudine. Madonna mia. Ciao... Ciao Morgana, buonanotte. Niente. Il vino... Il vino è bocciato. Il vino bocciatino. Basta. Niente, il vino ti ho dato questa possibilità... Ma lo ribadiamo di nuovo... Il vino cestino. Basta. Fine.